E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi finalmente sono qui per portarvi il tutorial su come eseguire il jailbreak al vostro iPhone, iPad o iPod Touch con Uncover su iOS 14. Questo jailbreak è davvero molto interessante perché è compatibile con qualsiasi dispositivo in grado di eseguire iOS 14. Per farvi un esempio, per quanto riguarda gli iPhone, parliamo di tutti i modelli che vanno da iPhone 6s, 6s Plus fino ad arrivare a tutti gli iPhone 12, ovvero iPhone 12, 12 mini, 12 Pro e 12 Pro Max. Comunque se avete qualche dubbio non preoccupatevi perché qua a schermo trovate la lista completa con tutti gli iDevice compatibili con Uncover e iOS 14. In questo caso diciamo che l'unica limitazione di questo jailbreak è data dalla versione di iOS 14 che avete installato. Infatti attualmente Uncover supporta solo le versioni di iOS comprese tra la 14.0 e la 14.3. Per sapere se avete una versione compatibile vi basta andare nelle impostazioni del vostro dispositivo qua in basso nella sezione generali su info dove troverete questa voce versione software. Se avete una versione compresa tra quelle che vi ho appena detto come nel mio caso io ho 14.1 che è compreso tra 14.0 e 14.3 bene potete procedere. Se invece avete una qualsiasi versione successiva come iOS 14.4, 14.5 o quello che è purtroppo aggiornando avete perso la possibilità di eseguire questo jailbreak. Ora già che siamo all'interno delle impostazioni un'altra cosa fondamentale da controllare è nella pagina precedente. Questa qua dovete andare nella sezione spazio iPhone e dovete assicurarvi che all'interno di questa lista non sia presente la voce di un aggiornamento di iOS. Dovreste riconoscerla perché è all'icona delle impostazioni e dovrebbe chiamarsi iOS 14.4, iOS 14.5 o qualcosa del genere. Di solito pesa qualche centinaio di mega perciò dovreste trovarla più o meno qua in alto. Se la trovate ci cliccate sopra e andate a cancellarla. Non potete sbagliarvi perché l'unico pulsante rosso è quello per rimuoverla. Nel mio caso vedete che non c'è proprio questa voce quindi sono già posto così. A questo punto dovremo essere pronti per fare il jailbreak. L'ultima cosa che voglio farvi notare è che oggi andremo a vedere la procedura con Alstore, ovvero la procedura che richiede un PC almeno per la prima volta. Questa è la procedura che mi sento di consigliarvi perché funziona sempre e comunque e non è patchabile da Apple. Tuttavia se proprio non avete a disposizione un computer non preoccupatevi perché nei prossimi giorni arriverà anche il tutorial per fare tutto senza PC. Ma in quel caso non è detto che quella procedura funzioni sempre perché dipende dalla disponibilità di certificati sugli altri store di terze parti. Bene ma detto questo direi che possiamo iniziare. Qua c'è tutto quello di cui avremo bisogno ovvero il nostro iDevice con installato Alstore. Eccolo qua. E' qua in fondo vedete perfettamente funzionante. Se ancora non ce l'avete qua sotto nella descrizione o nelle in alto vi lascio il mio tutorial per installarlo su iOS 14. Oltre a questo dovremo andare a collegare l'iPhone, l'iPad o l'iPod Touch al PC tramite il suo cavetto Lightning. Quindi vado subito a collegare anche lui. Ok. Perfetto. E sul computer se abbiamo un PC Windows dovremo avere in esecuzione sia iCloud, eccolo qui, e anche al server. E qua in basso non so quanto lo starete vedendo, comunque c'è. Mentre se avete un Mac vi basterà avere solo al server in esecuzione. Fatto tutto ciò siamo pronti per aprire Safari e andare sul sito ufficiale di Uncover. Il link vedete è questo qua, Uncover.dev. Ve lo lascio comunque qua sotto nella descrizione. E vedete vi riporterà su questa pagina dove oltre a trovare tutte le info su questo jailbreak trovate il bottone per installarlo con Alt Store. E quello che interessa a noi, ci clicchiamo sopra, ci apparirà questo pop-up che ci chiede se vogliamo aprirlo con Alt Store. Ovviamente andiamo a cliccare su Apri. E ora vedete che qua in alto ci apparirà questa barra di caricamento e vuol dire che appunto si sta installando correttamente. Ora, per quelli di voi che dovessero avere qualche problema ad installarlo in questo modo, non preoccupatevi perché se tornate sul sito di Uncover vedete che sempre qua in alto potete andare anche a scaricare direttamente il file IPA con questo bottone Download. Quindi se scaricate l'IPA da qua, dopo averlo scaricato potete tornare sempre su Alt Store e potete andare ad installare manualmente il file IPA da questa sezione. Ora, facendo questo, ho fatto un po' un casino perché si è bloccata l'operazione, quindi andiamo a cliccare di nuovo su Apri, aspettiamo rimanendo su Alt Store con il nostro computer collegato. Ok, perfetto. Ora sì, come potete vedere si è installato correttamente e lo troviamo anche qua sulla nostra home screen. Se proprio non lo trovate potete dare anche un'occhiata alla libreria delle app. A questo punto posso andare a scollegare l'iPhone dal PC perché non mi serve più. Spoiler, a fine di questo video vi farò anche vedere come usare Alt Store senza avere più bisogno del vostro PC. Ora, nulla di più semplice, andiamo ad aprire l'applicazione di Uncover e clicchiamo su questo bottone jailbreak che troviamo qua in basso. Adesso dobbiamo aspettare che faccia tutte le sue cose. Vi ricordo che essendo una delle prime versioni di Uncover che supporta iOS 14 potrebbe essere che ci vogliano più tentativi prima che la procedura vada a buon termine, perciò non preoccupatevi. In teoria eseguire il jailbreak subito dopo aver riavviato il vostro iPhone disattivando Wi-Fi, Bluetooth e mettendolo in modalità aereo dovrebbe aiutarvi ad avere un rate di successo più elevato. A me a quanto pare è andato tutto bene già al primo colpo. Vedete ci apparirà questa schermata dove se volete potete fare una donazione al team di Uncover, se non vi interessa potete uscire in questo modo e ora ci apparirà questo avviso. Ci dice che dobbiamo riavviare l'iPhone per procedere quindi andiamo a cliccare su ok e vedete che il riavvio partirà già in automatico. Perciò aspettiamo qualche secondo, ok possiamo andare a sbloccare l'iPhone, se ce l'abbiamo dobbiamo inserire ovviamente il nostro codice e ora Cydia non sarà ancora presente sulla nostra home screen. È normale perché questo jailbreak richiede due passaggi, perciò come prima apriamo Uncover e clicchiamo nuovamente sul bottone jailbreak. Ok dovremmo esserci, ora vedete che ci appara su questo pop-up che ci chiede se vogliamo mandare i log dei crash del nostro jailbreak. Questo serve per aiutare gli sviluppatori a sistemare eventuali problemi quindi molto volentieri vado a cliccare su Always Allow. Come prima ci esce la pagina delle donazioni e se andiamo a chiuderla vedete ci dice che il jailbreak è stato completato e non c'è stato nessun errore. Clicchiamo su ok e ora dovremmo ritrovarci con il nostro iPhone in modalità jailbroken. Ok andiamo a sbloccare nuovamente il nostro iPhone e come per magia ecco qua che troviamo anche Cydia installato sulla nostra home screen. Questo jailbreak tra l'altro include anche un'altra nuova applicazione, questa qua chiamata Substitute, sarebbe il componente che permette ai tweak di funzionare. Vi consiglio di tenere anche quest'app perché ci permette di modificare alcune preferenze, vedete eccole qua. A noi però interessa Cydia, andiamo finalmente ad aprirlo, eccolo qua. Come sempre al primo avvio dobbiamo aspettare che scarichi tutti i pacchetti ovvero dobbiamo aspettare che scompaia questa rotellina rossa che troviamo qua in basso. Bene, ora se andiamo su novità vedete che troviamo tutti i vari pacchetti qua pronti per essere installati. Come vi ho detto prima ne voglio approfittare per farvi vedere come installare un tweak che vi permetterà di far funzionare al store senza aver bisogno di un pc. Il tweak si chiama Alt Diamond, si trova in una delle repo già preinstallate, perciò ci basta andare nel tab cerca e digitare Alt Diamond. Ok eccolo qua è l'unico risultato, ci clicchiamo sopra, andiamo a cliccare su installa e conferma. L'installazione vedete che è davvero molto veloce, non richiede neanche un respring perciò clicchiamo su ritorna sidia, usciamo sulla nostra home screen e adesso vi faccio notare che ovviamente il mio iPhone non è connesso assolutamente a nulla tramite il cavetto, il mio computer è qua chiuso e spento quindi non c'è al server in esecuzione da qualsiasi altra parte ma se vado ad aprire al store, vado qua tra le mie applicazioni, se provassi ad installare una nuova applicazione oppure se provassi ad eseguire il refresh, vedete che parte e funziona correttamente senza l'ausilio di un pc. Avendo appena installato le app non cambia molto perché rimarranno sempre su 7 giorni, però capite che questo è davvero comodo per avere un cover sempre funzionante sul vostro iDevice, visto che normalmente ogni 7 giorni scadrebbe. Infatti per chi non lo sapesse ogni volta che andrete a spegnere e riaccendere il vostro iPhone, iPad o iPod Touch, a riavvio Cydia e il jailbreak non funzioneranno più. Ovviamente questo non vuol dire che avete perso tutto perché il jailbreak ed i vostri tweak sono sempre lì, solo che sono momentaneamente disattivati. Per riattivarli dovrete aprire Uncover e come prima cliccare sul bottone jailbreak. Non preoccupatevi la riattivazione chiede solo un singolo passaggio perciò sarà tutto molto più rapido rispetto alla prima installazione. E infatti vedete che ora ecco qua che abbiamo Cydia di nuovo funzionante. Bene ma detto questo direi che per il video di oggi era tutto, spero che vi sia piaciuto e vi sia stato utile. In tal caso vi invito a lasciare un bel like e se ancora non lo avete fatto di iscrivervi al mio canale. Noi come al solito ci rivediamo alla prossima e ciao a tutti!